Gli avvisi Il nuovo libro degli spiriti di VB, Cerchio medianico K, attraverso Marco, guida interiore. Soggiacere all'illusione che il karma sia qualcosa di esterno che voi non controllate, è assurdo, in quanto la logica stessa vi porterà a concludere che è possibile evitare di scottarsi non toccando una fiamma. Sapete in effetti cosa sono gli avvisi del karma? L'insegnamento a catena prosegue. Guida filosofica I consigli del karma altro non sono che le possibilità dall'individuo create di esperire le varianti, quelle che chiamammo situazioni parallele, mutazioni collaterali nella propria vita. E se varianti permettono di evitare il dolore. Guida psichica Qualsiasi limitazione ha dunque tre momenti in cui può essere esperita attraverso le sue varianti. Il senso di individualità fornisce all'uomo quindi il mezzo per far sì che quell'aspetto dell'individualità stessa non soffra. Procedete dunque sicuri che noi vi siamo accanto nella conoscenza dell'essere vostro e che essa è prodiga di rinnovazione e furiera di conquiste se ancora ha un senso usare questo termine che vale dunque solo come ideale ma non come fatto reale che si attua nell'intimo dell'individuo. Non sono conquiste sono ritrovamenti. Abbiamo dato un insegnamento morale a ciò che voi riflettiate ed abbiamo anche mostrato come certi aspetti dell'insegnamento filosofico esoterico siano inscindibilmente legati a quell'insegnamento morale che tanto avulso sembra da quella meccanica logica per cui esiste il tutto. L'insegnamento a catena prosegue. Grazie a tutti.